Salve, sono Carla Zarabuda e oggi vi porto alla scoperta dell'archivio di Pierluigi Nervi. Ci troviamo nel centro archivi, il cuore del Maxi Architettura, e qui che si possono consultare i materiali dei nostri archivi. L'archivio di Pierluigi Nervi è stato acquisito nel 2004 per le collezioni del Maxi Architettura e insieme ad altri grandi archivi come quello di Carlo Scarpa, di Enrico Del Debbio, di Sergio Musmeci, costituisce il primo nucleo della collezione del Maxi Architettura che poi si è andata via via arricchendo e ad oggi conta più di 80 fondi. Pierluigi Nervi è il più famoso ingegnere italiano del Novecento, mago del cemento armato, inventore di un nuovo materiale, il ferrocemento, e di una nuova tecnica, la prefabbricazione strutturale, progettista e costruttore. Tra le sue grandi realizzazioni le opere per le Olimpiadi del 1960 a Roma, lo Stadio Flaminio, il Palazzetto e lo Sport, il Viadotto di Corso Francia, il Palazzo e lo Sport all'Eur, sono stati delle quinte per i fantastici eventi sportivi delle Olimpiadi e sono diventati famosi in tutto il mondo e riconosciuti come capolavori. Negli ultimi anni della sua carriera Pierluigi Nervi realizza la straordinaria Sala delle Udienze in Vaticano, talmente legata alla sua figura e al suo nome, che viene chiamata Sala Nervi. E adesso andiamo a vedere nei depositi i materiali originali. Siamo nei depositi e si vede subito a un primo occhio la quantità e la varietà dei materiali. Nei cassetti e nei tubi sono conservati oltre 10.000 elaborati grafici, disegni che attestano più di 400 progetti realizzati da Pierluigi Nervi in tutto il mondo dal 1926 al 1979, data della sua morte. I armadi contengono oltre 300 faldoni, faldoni che molto bene rispecchiano il modus operandi di questo grande ingegnere. Tutto è conservato con metodo, con ordine e attesta in maniera precisa la quantità di materiali tecnici, relazioni, calcoli, appunti, ma anche lezioni, scritti e scambi con i maggiori esponenti del panorama culturale e architettonico del suo tempo, Louis Kahn, Gio Ponti, Le Corbusier. Ma il corpus principale dell'archivio è costituito dai materiali fotografici, oltre 15.000 pezzi, tra fotografie, lastre, diapositive, provini, che attestano la grandissima produzione dell'ingegnere. Particolarmente interessanti sono 21 album fotografici di grandi dimensioni che raccolgono una selezione, fatta dall'ingegnere stesso, di tutti i suoi progetti. Un'altra interessantissima tipologia di materiali fotografici sono le fotoschede, fotografie di piccolo formato montate su cartoncino che rappresentano il cantiere giorno per giorno, come un vero e proprio giornale di lavoro. Completa l'archivio la biblioteca personale, 704 volumi, le sue letture, la base dell'attività accademica, didattica e culturale che ha caratterizzato con estrema passione la vita di questo grande ingegnere. Tutti i materiali dell'archivio sono consultabili fisicamente qui nella sala studio del centro archivi, ma anche online nel nostro database e nella pubblicazione dell'inventario. Grazie a tutti.